Dovremmo avere nel collegamento telefonico il Presidente dell'Arezzo Marco Matteoni. Presidente, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Oh, eccoci qua. Allora, grazie innanzitutto della sua disponibilità e della sua cortesia. Le chiedo subito, insomma, questa partita lei l'ha vissuta in maniera particolare. I suoi genitori erano originari di Pistoia, della provincia di Pistoia, giusto? È stato un po' un derby... Mio padre sì, mio padre sì. Prima di tutto vi ringrazio perché è un piacere dialogare con voi. Grazie a lei. Siete obiettivi e questo c'è un grosso punto di vantaggio. La mia genitoria padre era della provincia di Pistoia, però ho vissuto questa partita con estrema trepitazione perché ero preoccupato ovviamente dei nuovi innesti, delle persone che stanno a bordo campo per adesso e mi pare che la partita è stata molto buona. Abbiamo un ottimo condottiero che è il buon Pavanel che sta tenendo la baracca dritta, insomma. Questa è una cosa importante. Io come amministratore e lui come tecnico stiamo andando avanti. No, volevo chiedere di Pavanel, insomma, che ha detto il mercato, spero finisca il prima possibile. Che cosa dobbiamo aspettarci, io lo chiedo a lei, da questi ultimi otto giorni di calciomercato, nove? Ma quello che ci dovremmo aspettare è che venga portellata la squadra. I giovani sono arrivati e bisogna comunque dargli fiducia. Però, ripeto, Pavanel sta facendo un buonissimo lavoro, forse oggi al Verona in prima squadra è una cosa che sarebbe molto comodo. Eh, questo è vero. Per chi ha detto basta parlare del passato, Presidente, guardiamo al futuro, voltiamo pagine, insomma? Perché purtroppo mi fa sempre di etrologia in Italia e allora io mi sono un po' piccato, sono state risposte dirette e allora a quel punto ho detto basta, guardiamo al futuro. Il passato è nel libro di storia ormai. Il primo obiettivo per il futuro che ha messo in agenda qual è, Presidente? Ce n'è uno in particolare che magari vuole vedere realizzato a breve termine. che parecchie persone nel caso di specie di sesso femminile facciano, la facciano finita a sconizzolare intorno all'Arezzo, perché mi sarei rotto le scatole, come si suol dire. L'Arezzo è ottenuto il mio e fino a quando io riuscirò a dare la forza di andare avanti, gradirei a passare a pescare per non essere mondiale. Ecco, questo è il mio primo obiettivo. Si riferisce a qualcuno in particolare, Presidente? O dobbiamo arrivarci da soli? Io sento tante voci di persone che dicono che hanno parlato con i miei commercialisti, che non ci hanno parlato, forse ci hanno parlato. Sinceramente non mi stessero disturbare perché ci sono altre cose più stelle come oggi. I miei commercialisti li conosco molto bene e fortunatamente non sono mai stati contattati da nessuno. Ok, qui in studio abbiamo anche Fausto Sarrini, che è il collega della Nazione. Non so se hai una domanda da rivolgere al Presidente, Fausto. Ciao Presidente, buonasera. Ciao Fausto. Ciao. Volevo chiedere se da qui alla fine stagione, no? Qual è la preoccupazione maggiore e invece qual è la speranza maggiore? Ma guarda, la speranza maggiore... Io ho un sogno che vi trasferisco. Vorrei, salvando Prezzo, prima del previsto, garantendosi quindi la tranquillità, vorrei fare una festa allo stadio e mutuare le feste che fanno i Cinque Stelle, i Baffa Dei. Sì, perché quel giorno il Presidente dell'Arezzo, se sarà ancora vivo, come mi auguro, ce la va per tante persone, che le farà un Baffa Dei da apposta. Beh, sarebbe una bella esperienza. Sarebbe una bella esperienza. Sarebbe una bella esperienza che quella. Raffaello, hai anche tu una domanda da rivolgere al Presidente? Raffaello Emiliani, per lei Presidente. Buonasera Presidente. Niente, del mercato è inutile parlarne perché molto probabilmente ci penseranno forse più Zavaglia e Liorio, almeno questo penso. Ora, ha risposto la prima parte della domanda di Fausto, vorrei rifare la seconda domanda, questo è quello che si aspetta alla fine, ma la sua preoccupazione più grande in questo momento? La mia preoccupazione più grande è di, veda, il problema fondamentale è, noi abbiamo un obiettivo oggi come oggi, salvare i ponti di Arezzo e salvare l'Arezzo. Io non parlo più di città perché non ne voglio più parlare, però a me quello che dà fastidio è che ogni volta che mi avvicino ad Arezzo vedo sui cucuzzoli delle montagne i lufi, questo mi dà molto fastidio. Perché quello che io ripeto sempre, in maniera anche ossessiva e meno escluso, che oggi se non fossimo intervenuti noi tutti, io, Pianeta Maralto o chi che sia, oggi si parlerebbe di una squadra che ricomincia dall'ultima serie. Vorrei che questo fosse sempre tenuto presente perché questi benedetti e maledetti gufi non riescono a capire che gioco fanno, perché riportare la squadra, gufi e gufe, rifar precipitare la squadra dell'oblio è una cazzata, oggi come oggi. Su questo credo anche che siamo tutti d'accordo. Questo voglio che sia chiaro, non ho fatto nomi, cognomi, perché non mi interessa più, però quello che torno a dire è che questa gente, invece di rimboccarsi le mani, sta lì a aspettare non so che cosa e non so chi. Speriamo che non ottengano quello che vogliono da questo punto di vista, Presidente. Ma no, per quello che mi riguarda no, però voi dovete anche capire che l'entusiasmo che mi dà il tifo, l'entusiasmo che mi dà anche voi giornalisti, con alti e bassi, perché ovviamente ci sono tessi di atto e tessi di atto. Fa parte del gioco questo, no? E quello che sinceramente non riesco a capire è perché questo accadimento contro l'avete, non riesco a capirlo. Personaggi improponibili che vanno dicendo peste e conna su di me o che sono in trattative con me, questo disturba, cari signori, questo disturba. Perché i soldi non è che io e voi li rubiamo e quindi quando abbiamo deciso di investire in questa avventura, io e il mio gruppo, abbiamo trovato tanta gente che ci vuole bene, ma tanta gente che sta provando a fare il fumo. E questo l'ha fatto. Scusatemi per lo scopo, eh. Prego, prego Presidente, la devo anche salutare perché il tempo è tiranno, la pubblicità incombe e abbiamo chiuso questo spazio.